e studiamo le ultime dichiarazioni di Cesco queste sono dei raffronti però quello che non riesco a capire se due persone scusa Antonello questa è una cosa importante se due persone dichiarano di stare tutte e due nello stesso luogo si stanno trovando degli alibi a vicenda perché lì dentro secondo me non c'era nessuno ma non c'era nemmeno il corpo di Moana e non c'era manco Moana perché nessuno l'ha vista cioè pure questo medico questo luminare François Bisuel che ha firmato il certificato di morte il quale è un luminare internazionale è come se tu vai per certificare la morte di qualcuno da Fernando Aiuti ma dove sei visto? guarda caso proprio questo François Bisuel dieci giorni dopo la cosiddetta scoparsa di Moana parte e se ne va a Parigi in un ospedale francese dopo di che dove va? va al Fleming all'hotel Fleming che non è un hotel ma un ospedale di ricerca di Saint-Martin nelle isole francesi dove oggi fa ricerca sulla ipotermia controllata che è una forma avanzata della ibernazione e che mi porta a pensare che questo qui abbia portato piano piano abbia creato un percorso tale che pur costoso l'abbia attuato se lo attua anche per altri non solo ma siccome allora non era come oggi l'ibernazione o l'ipotermia controllata costava oggi costa intorno a 120 mila dollari allora costava intorno a un milione di dollari guarda caso Moana ritira presso il Banco Ambrosiano di via Gregorio Settia qualcosa come 2 miliardi e 800 milioni e se riporta come anche qui quanto è successo? questo 20 giorni prima della presunta morte della presunta morte quindi intorno al 25 e poi questa denuncia famosa dai carabinieri per lo smarrimento o è stata fatta due mesi? due mesi dopo da Moana però sì lì sta scritto Moana come sta scritto Moana il mutuo preso dopo 9 mesi ma c'è un qui c'è pure un'altra cosa parlando ieri con con Nicolino Matera Nicolino Matera sarebbe F.M. Video? sì il vero impresario di Moana perché cioè lo zio è un parente di quelli di F.M. Video che cosa fa Nicolino Matera? Nicolino Matera quindi anche qui spezza un'altra lancia su altre aveva dato qualcosa un mese prima qualcosa come 500 milioni in prestito a Moana ma tutti questi soldi dove si è andato a finire? i soldi degli appartamenti Dicesco dice che deve aver avuto soltanto 60 milioni ma qua qui qualcosa non vale cioè tu hai da quello che ho capito hai ventilato un po' l'ipotesi di un'eventuale anche impernazione di Moana io ho ipotizzato questo perché di riguardo a caso è come quando dici oh quel bambino non si ritrova ma perché quello che non si ritrova dove può stare dallo zio questo è un grosso rompicapo effettivamente come cominciamo anche a parlare del mutuo dopo nove mesi anche la stessa denuncia dei carabinieri ma una Moana Pozzi che va in giro alla fine viene anche riconosciuta da qualcuno qualcuno l'avrà vista ma secondo te se Moana avesse fatto una cosa del genere secondo te avrebbe anche mantenuto le stesse sembianze sembianze ma secondo se qui ti faccio vedere ecco questi documenti mi dispiace che i nostri perciò sarebbe stata una scelta di Moana questa ma come no cioè quello che sostiene tu è questo non è per questo c'è questo mistero che i nostri radioscoltatori non possono tu immagina dopo la cosiddetta scomparsa ci sono stati ben 25-30 movimenti presso l'ufficio immobiliare di Roma atto tra vivi? sì come atto tra vivi quindi non so cedevano l'appartamento di Moana chi lo cedeva? due persone vive no? quindi chi era questa persona viva? chi era Moana? o qualcuno l'ha uccisa veramente a sto punto e poi dopo e ne ha lucrato come nel fatto specifico di Cesco per me è qualcosa di aberrante è di riprovevole di una persona che dice di avere operato l'eutanasia quando dopo averne lucrato l'eredità di quest'uomo che moralmente è ineccepibile ci dicono che spesso l'idicavano che spesso lo trovavano sullo zerbino di casa di questo personaggio che appena Moana scompare si ritrova con la sorella e va a vivere con lei qualcosa non quadra io non accuso nessuno ma loro debbono dare a noi l'opportunità di verificare gli atti su Moana certo perché da quello che stavo vedendo dalle prove documentali tu tra l'altro hai costruito un castello proprio probatorio perché dimostra proprio la più che castello i documenti che sono la non morte cioè i documenti sembrerebbe che una Moana dopo la morte abbia fatto delle cose che fanno normalmente vivi un po' improbabili la stessa la stessa camera di commercio di Roma forse bisognerebbe chiedere a Michele all'arcivescovo Giordano magari se c'è un discorso delle anime magari che sono la reincarnazione forse in questo modo forse sarebbe comunque Giordano oggi ha qualcosa in più da vedere anche perché ormai è pensionato Giordano almeno il marito bene a questo punto io mi fermerei un attimo perché c'è la pubblicità che incombe e poi subito la pubblicità ascolterei un'altra canzone appunto di Fabrizio D'Andrea che è Città Vecchia una canzone molto bella dove in qualche modo è un un attacco contro l'ipocrisia che spesso avvolge molti settori appunto della nostra società linea alla regia prima ci ascoltiamo la pubblicità e poi naturalmente consigli per gli acquisti diceva qualcuno una volta io però non voglio nominare quel qualcuno e comunque Città Vecchia dà la voce di Fabrizio D'Andrea siete su Radio Roma ed eccoci nuovamente in studio dopo questa bellissima canzone di Fabrizio D'Andrea che insomma va in qualche modo a toccare un po' tutti i lati ipocriti del nostro tessuto sociale e a questo punto ritorniamo ancora in studio a parlare dell'argomento in questione appunto la scomparsa o non scomparsa appunto di Moana Pozzi e oltre alle dichiarazioni appunto di questi giorni del suo ex marito e con Brunetto Fantauzzi e Loredana Bontempi però abbiamo in questo momento in diretta quello che è stato lo scopritore un po' il costruttore diciamo dell'immagine appunto artistica di Moana Pozzi considerato spesso nelle cronache giornalistiche il re del porno comunque noi un grande amico appunto di Radio Roma è una persona insomma sicuramente di grande spessore per quanto riguarda il mondo dello spettacolo sto parlando di Riccardo Schicchi benvenuto a Radio Roma Riccardo grazie buonasera buon pomeriggio cioè so che sei in campagna se vi abbiamo disturbato per farti intervenire ma non potevamo escluderti da una conversazione di questo tipo allora diciamo in questo momento stavamo parlando appunto con Brunetto Fantauzzi qui in studio di Loredana Bontempi del fatto che Brunetto ha un po' ripercorso quello che è stato un po' nel scorso biografico appunto di Moana dall'85 86 chiedo scusa al 91 in cui ha ha fatto diciamo ha frequentato molto i set porno fino al 91 che come dice Brunetto è stata sdoganata in qualche modo e si è lanciata un po' nel mondo dello spettacolo a 360 gradi diventando poi quel personaggio che poi è stato mitizzato appunto dalla storia delle croniche appunto italiane e Brunetto ha prodotto moltissimi documenti che dimostrerebbero la non morte di punto di Moana di fatto che Moana non che sia via magari che non sia morta e tu Riccardo come vedi questa questa cosa di tutti i colori mi pare in questi anni io credo di essere stato l'unico a non approfittare della morte di Moana di non aver mai percepito compensi di non aver mai venduto nulla della storia di Moana di aver tenuto molti segreti devo dire che le fantasie sono enormi da parte di un po' spero di sì anche l'ultima storia di Antonio Vicesco che dice che per amore ha accelerato la morte di Moana si basta no un attimo sempre vedi audio un attimo si perciò diciamo che in questa